Ecco a voi la troncatrice radiale GCM8SJL Professional Bosch, compatta per grandi capacità di taglio, con un peso di soli 16 kg, può essere infiegata ovunque rapidamente ma soprattutto in tutta facilità. La troncatrice radiale è l'ideale per tagliare laminati, piastrelle o palcchi di grande formato grazie all'elevata capacità di taglio, orizzontale e verticale. La potente aspirazione della polvere in due punti consente di lavorare in modo particolarmente pulito. L'arresto dell'angolo di inclinazione funziona in modo del tutto intuitivo. Lasciatevi convincere dalla GCM8SJL Professional Bosch, la troncatrice compatta per grandi capacità di taglio.